Oggi il cloud è diventato cruciale nella trasformazione digitale dell'azienda. Con Sustens lavoriamo in ambito cloud praticamente da sempre. Di recente abbiamo ottenuto la specializzazione cloud migration di Atlassian, frutto del lavoro di questi anni e delle competenze tecniche dei nostri team che hanno affiancato i clienti nella migrazione e nella gestione della suite Atlassian. Tra i molti vantaggi della suite del cloud Atlassian i principali sono l'eliminazione dei grampi di inattività per la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura. Questo permette agli amministratori di concentrarsi sulle priorità di adatto. Come partner specializzato in cloud migration guidiamo i nostri clienti alla transizione Microsoft Cloud con strumenti efficaci, ad esempio soluzioni per il teamwork e la collaborazione. Li affianchiamo nella gestione dei progetti di migrazione complessi e garantiamo servizi su misura come la formazione del team, integrazioni e automazione di processi. Inoltre forniamo supporto personalizzato durante tutto il processo, dall'analisi dei requisiti alla risoluzione dei eventuali problemi post migrazione. Se anche tu vuoi beneficiare della specializzazione cloud migration per la tua azienda, contattaci.